buona ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento del 19 allora come potete vedere oggi ero nel vigneto qui alle gare le viti come appunto sto facendo in questi giorni e abbiamo fatto quattro filari i primi no cinque allora uno due tre quattro cinque sì perché oggi pomeriggio ne ho fatti tre e abbiamo fatto i primi cinque filari del vigneto diciamo sopra quello lì quello vicino agriturismo allora novità domani finalmente se riesco a finirlo iniziato stamattina c'è un bel lavoro da fare e devo finire di mettere insieme tutte le clip che ho registrato mentre appunto venivano fatti i lavori qui nel nel terreno così vi do un aggiornamento diciamo su tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso in pratica e magari insomma così riuscirete a capire anche più o meno cosa cosa andremo a costruire e va buon dai ragazzi io vi saluto e noi ci vediamo domani buona serata a tutti adesso devo andare in stalla con la bc potente sky and streets a non so se lo sapete ma ho una band si chiama sky and streets se volete ci trovate su youtube dappertutto insomma buona serata